musica 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 madonna perfetta impressione mi sono girato ho fatto una foto musica che cazzo è stato? sei stato tu? boh non credo hai sentito dei passi qua? ma passi nel senso di passi no ma qualcosa che cadeva musica 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 niente no ho fatto semplice non mi ha detto che cosa non mi ha detto che cosa cosa? fatemi riuscire a fare aspetta ah musica 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 ma te hanno chiuso sta porta davanti a me questa qua ma quale? questa l'uscita questa qua questa qua è aperta qua c'è qualcuno spegniamo qua la luce cosa? com'è possibile? cosa? nevica? no avevo le palpitazioni come se ci fosse il fantasma qua fuori non è che oh 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 ragazzi 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 gobbiamo di luce eccolo gobbiamo di luce che sale qua ecco dove sta andando dove stai andando? stava qua stava qua ma la porta è chiusa qua ma la porta è chiusa qua aiutatemi non mi ha ucciso per grazia divina eccolo eccolo è passato col dot sei sicuro? si oh chi ha spento la luce? nevas dov'è francesco? francese non sono molto per grazia divina hanno spento la luce non mi ha ucciso è passato col dot dovrebbe essere anche l'imperatore dell'angelo dovrebbe essere anche l'imperatore dell'angelo sicuro? si perchè sta scendo ho fatto una piadella poi eh si guarda quanto scende ho sotto zero ok abbiamo due volte ancora oh hanno aperto ah no secondo me può giocare ok bravo ma ecco madonna mia è scomparso perchè per un pego l'ho visto con la telecamera ragazzi alcuni ecco vedete guardate alcuni tarocchi che abbiamo trovato fanno cose folli ok ha spostato presto madonna mia sono morto eh furtissimo fermai qua dentro ok chiudi dimmi riesce la temperatura sta diminuendo la temperatura spegnila da un telefono prova tu scegli prova a parlare dici che è qua? si sta diminuendo la temperatura vai pensi di pensi di dato qualcosa? no non ho mai risposto ma ancora la temperatura diminuisce si sta diminuendo la temperatura ecco qua è sprendo tu o no? no Nesse 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 sei tu aเรenger Tu la Francesco, ecco è asciutta qui no? chi ne vede il lettore è il maestro mamma mia dovremmo riaccendere la corrente se ti vede bene rimane qua addio ma te ma te a te EMF puntatore d'orzi e piperatore di congelamento ma mi pare strano sia l'homi però infatti stai a 1% partiamo lì oh curo mettioni proviamo spero vabbè che falle 55 snoo me l'ho scattata una cosa al fantasma ho ucciso il mio compagno di squadra dovremmo andarci grandissimo sono morto grandissimo get dead